vince i muri la facinale del primo e secondo posto per si voglia di fare questi programmi Marzoni, Valerio e Armonio e Romano terzo classificato Pintus Daniele terzo classificato Gabrielini Daniele secondo classificato Rizzetti Francesco primo classificato Carabotto Daniele vince Rettol Adams si preparano per il prossimo riporto Poggi, Macciocchi, finale primo e secondo posto prossimo riporto Canale e i tatami 3 sul tatami 6, tatami finale, primo e secondo posto per la categoria 73 giornali Marzoni, Valerio e Armonio e Romano si preparano per il prossimo riporto il premio era più giudicato Sipi, Mae Struvic, Romano la città del montaggio di Perrani, Sarri, Agricari, Francesco e Gurettini e Pulizio rinascioni categoria 66 chilogrammi, Marsile al podio Lucera, Lagana, Ardescu vince Marzoni, Valerio e la città del pietro Grazie a tutti. Grazie a tutti.